Voi otterete con le orecchie, ma non intenderete, e vedrete con gli occhi, ma non comprenderete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, e hanno intuito le orecchie, e hanno chiuso gli occhi, per non vedere con gli occhi, e per non sentire con le orecchie. Padre mio, perché mi hai abbandonato? Costui chiameria, chiamo. Lasci, vediamo se viene lì a salvare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.